grazie al prossimo video buongiorno amici e come sempre benvenuti nel mio canale inquadratura in solita per un video altrettanto insolito questo semplicemente per darvi una misura della più o meno più larga diciamo una sorta di grand'angolo visto che questa macchina il grand'angolo non ce l'ha di quello che è il laboratorio ma più che altro ora questa è la zona diciamo che inizialmente era di collaudo ora è diventata un'esposizione di macchine da collezione perché questo per farvi vedere le macchine assolutamente no per incominciare ad abituarvi a vedere questa immagine perché poi la modificheremo che cosa significa significa che se tutto va bene con le ferie che dovrei andare a prendermi si tratta semplicemente di nove giorni lavorativi per cui voglio dire neanche il minimo sindacale ma in quei nove giorni lavorativi spero di poter fare una piccola rivoluzione che avrei voluto fare lo scorso anno che per tempo non mi è riuscita quindi quello di buttare a terra tutto quello che in parte state vedendo perché la roba continua praticamente sulla mia destra c'è un altro scaffale solamente ma è completamente zeppo di macchine e perché intenderei modificare questo assetto per rendere un pochino più fruibile tutte le macchine che sono ricordo tutte collegate ognuna al proprio monitor o al molto che si sguiccia da una parte all'altra e quindi dare una ammodernata sia la stanza sia il canale spero di non aver anticipato e quindi essermela praticamente buttata da sola perché più o meno è successa una cosa simile già lo scorso anno speriamo di no ora però possiamo ritornare nell'inquadratura normale perché nell'inquadratura normale vi spiego il particolare video di oggi beh cosa ci può essere di particolare in un video di riparazione semplicemente le modalità della riparazione o più che la modalità della riparazione il andare a un pochino a smontare quello che è stato fino adesso un cliché ma lo faremo solo per questo video è un praticamente un video proprio particolare proprio per questa ragione sarà credo una tanto in pratica non avremo la riparazione dell'utente di turno non avremo tra l'altro neanche la riparazione di una mia macchina e di qua di mie macchine che hanno bisogno di assistenza in attesa di avere io più tempo ce ne sono veramente tante ma andremo a vedere una miga 600 che era stata mandata insieme con un'altra macchina di cui abbiamo già visto la riparazione che avrei dovuto sistemare praticamente offline ho visto però che le condizioni della macchina erano veramente messe male avrebbero richiesto un tempo che non avrei potuto dare perché non ce l'avevo durante la settimana e quindi ho capito che era necessario approfondire il discorso e fare un video dedicato quindi questa riparazione non avrà un utente il nome di un utente non avrà il classico unboxing eccetera eccetera vedremo semplicemente la macchina già aperta già inizialmente controllata addirittura qualche componente è stato già dissaldato una macchina che non so se funzionava prima non ricordo più la discussione semplicemente è stata recappata a seguito del quale purtroppo la macchina ha avuto un problema di dominanza sul viola e un problema di non più funzionalità dell'interfaccia IDE in pratica l'hard disk non viene più riconosciuto anche se si tratta di una cf card comunque l'interfaccia IDE non funziona più beh io quando ho aperto questa macchina apparentemente sembrava tutto ok a parte il discorso delle recap che è stato fatto ni nel senso che qualche pad purtroppo è volato via ma penso che questo non sia un grande problema ho visto anche che praticamente la macchina dal punto di vista della dominante non ho trovato nessun problema mentre il problema dell'interfaccia IDE assolutamente presente infatti infatti l'hard disk non è più assolutamente funzionante provato già altri hard disk questa macchina continua non funzionare siamo certi che il problema sta sull'hard disk ho quindi analizzato il pettine dell'interfaccia IDE vedendo che praticamente erano la maggior parte dei pad assolutamente danneggiati ho chiesto all'utente se lui avesse sostituito anche il il praticamente il connettore il pettine dell'interfaccia IDE mi ha confermato perché il suo originale era danneggiatissimo dal ossido che era stato rilasciato dai condensatori prima del recap diciamo che non ha fatto un meraviglioso lavoro sull'interfaccia IDE speriamo di poterlo ripristinare apro la macchina la metto sullo solito banco di lavoro andiamo subito a vedere le condizioni in cui si trova e speriamo di poter risolvere velocemente il problema su su questa bella macchina quindi spero spero che sia così questo video mi dovrebbe durare spero poco perché sto incominciando a riorganizzarmi e devo assolutamente rispondere a una marea di messaggi che mi sono trovato su telegram e sto vedendo anche su messenger e a proposito di messenger ultimo avviso messenger è stato abbandonato da me mesi fa l'ho detto in tantissimi video l'ho detto in tantissime live ne ho spiegato il motivo non è una scelta di programma ma una scelta funzionale messenger mi dava una marea di problemi e questi problemi potevano in qualche modo penalizzare i miei utenti perché a me non arrivavano le notifiche avendo centinaia di messaggi a settimana chiaramente se non arriva la notifica non riesco a stare dietro ai migliaia di contatti che per andare a cercare chi mi ha scritto pure no mi serve che mi arrivi la notifica messenger non mi manda la notifica e quindi l'ho abbandonato vedo che ci sono ancora ho dato uno spulciata ogni tanto non una volta al mese tanti che continuano a scrivermi lì e bussano per la serie non mi rispondi beh che cosa vi devo dire le riparazioni gli utenti che usufruiscono di questo servizio di riparazione loro sanno già a che titolo quindi non stiamo facendo un discorso lavorativo che non mi seguono e quindi che dicono di essere dei miei utenti e quindi pretendono la riparazione ma dopo sei mesi non capiscono che io mi sono spostato su telegram credo che non siano veramente dei miei utenti ma solo delle persone che vogliono farsi la riparazione se io volessi questo aprirei un'attività diciamo non diventerei lì come sicuramente guadagnerei molti più soldi di quello che succede adesso perché le riparazioni ve l'ho detto ve l'ho stradetto sono fatte a titolo quasi di favore per certi aspetti si fanno delle donazioni ricevo alcune donazioni alcune addirittura libre spontanee e questo è per cui gli utenti che riescono in qualche modo a seguire video anche se non vogliono telegram ma conto meno mi fanno contattare da qualcuno che telegram per darmi un contatto diretto ci stanno gli utenti che dopo sei mesi non hanno ancora capito perché non hanno seguito un video in sei mesi che mi sono spostato su telegram ahimè purtroppo non posso farci nulla detto questo argomento chiuso andiamo al sodo con la speranza di avere abbastanza tempo per rispondere alle decine di messaggi o centinaia non lo so quanto saranno che sono arretrati sul mio gruppo telegram e quindi niente andiamo subito laboratorio e vediamo di trovare un modo per risolvere il problema al nostro amico bene questa è subito la macchina la miga 600 come si vede è in buone condizioni attimi ottime condizioni non diciamo pari al nuovo ma veramente in ottime condizioni questo è la cf card con l'adattatore idet cf card che era già all'interno la macchina chiaramente come vi avevo detto è già aperta quindi ve l'ho lasciato chiuso solo per farvela vedere qui abbiamo diciamo i due condensatori che non sono stati completati per il recap perché si trovavano in una posizione scomoda e quindi il nostro utente non l'ha praticamente sostituita ci penseremo noi immediatamente queste sono le vite e tutto il resto le mettiamo da parte anche la scheda dovrebbe essere mi sembra di averla lasciata aperta sì la sua espansioncina di memoria da un megabyte e abbiamo la mainboard già belle pronta cucinata praticamente cose che non abbiamo mai fatto perché insomma è anche il pettine il pettine ide che più che il pettine diciamo il connettore ide che è stato come vi avevo già anticipato anche lui dissaldato dissaldato per verificare i collegamenti diciamo di di sopra quindi del top layer mentre quelle del battle layer si vedevano già che erano molto danneggiate ora per darvi un'idea delle condizioni in cui si trova questa zona delle pettine facciamo la solita scarrellata con il microscopio dopo di che andremo a testare la continuità di ogni singolo pad e quindi verificheremo se il nostro amico ha distrutto sicuramente qualche collegamento cercando poi di ripristinarlo eventualmente per poi risaldare ricollaudare tutto quanto volevo anche approfittare però un attimino solo di specificare questo io avevo detto fin dall'inizio che quest'anno non avrei accettato una seconda macchina non avrei accettato macchine manomesse beh questa è una seconda macchina manomessa quindi diciamo il plus del plus del non si fa così però sono stato io ad accettarla per delle altre ragioni quindi diciamo che è un caso quasi unico andiamo dunque a vedere le condizioni in cui versa questo povero connettore quindi eccoci qua perfetto vediamo i pad inizialmente di sopra leggermente modificati danneggiati ma non tanto qua abbiamo una potenziale interruzione della pista anzi ora mi munisco meglio di una pinzetta per entrare nel dettaglio vediamo se riusciamo qua abbiamo qualcosa che non va questo pad mi sembra danneggiatissimo qua abbiamo un taglio di netto da in questa direzione qua abbiamo qualche problema che poi verificheremo se effettivamente un problema oppure è semplicemente sollevato il solder mask fino a tutto ok un altro problema qua centrale ma questo credo sia solo un problema di solder mask questo assolutamente non è un problema è semplicemente danneggiato un pochino ma niente di che troviamo ancora del liquido che va assolutamente pulito e questa è la situazione non tanto male il problema lo troviamo dalla parte di sotto dove è stato utilizzato il disaldatore direttamente da questo lato e quindi incominciamo a vedere un po i disastri quindi vediamo le corone dei pad distrutti soprattutto il secondo di in basso questo è completamente aperto praticamente aperte in due questo è danneggiato pure questo pure qua ancora fuoriesce della melma tra il top layer battle layer qua abbiamo un pad quasi inesistente super deformato dalla pressione meccanica del disaldatore sul padre vediamo se riesco a farvi un tipo di lavoro ok così sono più stabile anche come come ripresa quest'altro è anche danneggiato questi due si vedono danneggiati ora quando vedete quel tipo di danneggiamento con il pad che non ha più una forma circolare regolare della corona lì c'è stata una pressione meccanica della punta del disaldatore cosa che assolutamente non si può fare non si deve fare ecco questi due sembrano praticamente distrutti questo in particolare sulla sulla destra anche questo mi sembra sia interrotto per metà conseguentemente abbiamo la pista di sinistra per i fatti suoi la pista di destra per i fatti suoi almeno che non sono collegate all'interno anche qua abbiamo una pista che non so in che condizioni si trova vediamo se riesco ad entrare dentro con la mia pinzettina questa in particolare questa è completamente deformata e non va bene anche qui c'è il dubbio sul funzionamento qua manca addirittura completamente tutta la corona dovrebbe essere quadrata e ce n'è solo un piccolo pezzettino vediamo anche qua se riesco a farvi ammettervi ecco qua questa dovrebbe essere questo riquadro qui e non c'è rimasto praticamente più nulla se non questo bordino di di pad che insomma come si vede è assolutamente galleggiante e si muove tra l'altro quindi questo è completamente aperto va bene come si vede la situazione non è assolutamente delle migliori l'unica cosa che possiamo fare è quella di verificare la continuità tra un punto e l'altro e poi eventualmente ripristinare le saldature ok arrivato a questo punto non ci rimane come dicevo prima di andare a verificare quante pad quante via quante piste insomma ci ha ha danneggiato il nostro amico con il suo amica 600 beh non vi sto qui a far vedere tutti i passaggi chiaramente una cosa abbastanza stupida banale dal punto di vista proprio dell'applicazione alla fine si tratta di verificare se quel determinato segnale che passa da quel determinato pad in effetti non si interrompe in qualche determinato punto beh in aiuto in soccorso a questo tipo di problematiche ci viene il nostro pcb explorer un software che praticamente gira online che ti permette di verificare praticamente i collegamenti delle nostre e-mail board ci sono quasi tutte le e-mail board ad eccezione delle 3000 purtroppo non l'ho trovata infatti ho qui un 3000 in attesa di essere completata la riparazione e si sta allungando un pochino i tempi proprio a causa della mancanza di questo ottimo strumento vedremo come funziona e vedremo soprattutto come utilizzarla al meglio questo perché a volte si dimenticano alcuni passaggi e quindi poi ci si ritrova ad avere una verifica solo parziale per poi non capire per quale motivo questa cosa non funziona riverificare riferificare eccetera eccetera all'infinito chiaramente sono problemi subdoli e soprattutto rognosi del motivo per cui avevo deciso quest'anno di non prendere le macchine manomesse in ogni caso a parte questo l'abbiamo detto ribadito ma non è per in qualche modo preoccuparci di questo altrimenti non l'avere accettato andiamo a verificare invece cosa più interessante come utilizzare al meglio lo strumento pcb explorer dopodiché offline perché non ha senso farvi vedere punto punto sarà solo un controllo di punti lungo del noioso quando avrò trovato le interruzioni che sicuramente ci saranno ve li farò vedere e le verificheremo intanto andiamo a capire come funziona bene il pcb explorer ok partiamo dal pcb amigapcb.org e troviamo questa schermata questa schermata ci invita a selezionare il modello di amiga che abbiamo di cui abbiamo bisogno lo schema il piccolo schema il pcb abbiamo 500 600 1200 due versioni amiga 4000 due versioni amiga 4000 tagore una cd 32 due versioni espansione come si vede manca purtroppo l'amiga 3000 andiamo sul nostro 600 e verifichiamo che abbiamo solamente la revisione 2a beta tra l'altro questa mainboard in effetti è la 1.5 ok si è la 1.5 diversa da quella ma i cambiamenti sono così minimi che potrebbe non essere problematico quindi andiamo a selezionare comunque la nostra amiga 600 una sola raccomandazione questo strumento è un ottimo strumento veramente impagabile per certi aspetti anche se c'è il logo paypal quindi in effetti si potrebbe pagare o quantomeno donare ma non è assolutamente affidabile al 100% anche se viene dichiarato io nell'utilizzo in questi anni ho scoperto diversi bug diversi 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 problemi per cui e sì è un ottimo strumento facciamoci utilizziamolo bene ma attenzione a non utilizzarlo come se fosse al 100% affidabile quindi se si parte con queste idee con questo concetto non troveremo sorprese non avremo delle problematiche la possibilità di selezionare la praticamente la grandezza ora al 100% lui intende questa cosa qua si può rimpicciolire in questo modo dal 33 fino al 400% chiaramente possiamo ingrandire ed entrare un pochino più nel dettaglio per scrollare il nostro pcb possiamo utilizzare le barre sotto della finestra come solitamente windows ci ha abituato oppure semplicemente cliccare sul pulsante destro anzi sul pulsante centrale della rotellina in pratica del mouse una volta cliccata possiamo scrollare in questa maniera qua quindi muovendo il mouse ritorniamo al nostro 100% possiamo selezionare il layer da cui stiamo andando a guardare il nostro amica 600 in questo caso corrisponde al top layer se andiamo a premere il infatto e chiaramente è facile immaginare che stiamo vedendo il nostro pcb dalla parte di sotto possiamo selezionare il layer che noi possiamo visualizzare ad esempio il cyclist screen ci elimina completamente tutte le serigrafie il solder mask toglie praticamente la parte verde e il copper ovviamente a eliminare il copper mask il layer di copper chiaramente non ci interessa eliminare niente se non dobbiamo andare a guardare nello specifico qualche piccola particolare power potrebbe essere utile disattivarlo perché se andiamo a scegliere una pista di power ci metterà un sacco di tempo per andarsela a trovare ma io preferisco aspettare un pochino ad averla disponibile possiamo anche praticamente selezionare l'opacità quindi opaco vediamo solo il layer visualizzato transparent vediamo il nostro pcb in trasparenza al momento sembrerebbe non avere alcun senso ma lo vedremo poi dopo è automatico lui ti dà presento un'opacità ma nel momento in cui andiamo a selezionare un segnale quindi una pista ecco vediamo che il nostro pcb diventa opaco si intravede ma la pista viene evidenziata meglio perché altrimenti in opaco potrebbe non tanto essere visibile ogni volta che io seleziono un segnale quindi una pista il segnale mi viene evidenziato con colori differenti ci sono colori che sono assolutamente non facilmente individuabili come per esempio questo layer verde che è di un verde simile leggermente più chiaro al verde del nostro pcb per cui non non è una cosa semplice da andare a vedere io conseguentemente preferisco il rosso e come opero praticamente seleziono un pad qualunque che non mi interessa c'è più che un pad un segnale qualunque ad esempio questo che è un azzurrino molto chiaro che quindi anche questo è veramente poco visibile e poi il so che il secondo layer il secondo segnale mi verrà evidenziato il rosso per cui vado a scegliermi a cercare la pista esattamente con il secondo quindi il rosso che come si vede è molto evidente un'ultima cosa e poi passiamo direttamente al controllo del nostro pcb se la pista si vede dal layer che è stato selezionato ad esempio ora siamo in top quindi la pista si trova sul top layer come può essere per esempio questa si vede chiaramente rossa una linea continua quando la pista si trova nel layer inferiore la fa vedere tratteggiata come ad esempio in questo caso qua quando la linea è tratteggiata significa che si trova sul layer opposto tant'è che se io vado in battle la linea che prima era tratteggiata ora diventa continua e le linee che prima erano continue chiaramente diventano trattegiate questo qua è intuitivo bene un'ultima cosa un ultimo consiglio per sfruttare veramente al massimo questo eccezionale strumento è questo quando andiamo a cercare una possibile potenziale interruzione lo dobbiamo fare stando attenti alla direzione del nostro segnale gli do un'indicazione un pochino più precisa ad esempio se io vado a selezionare questo segnale qui ho dal mio pad una pista vediamo tratteggiata quindi si trova nel layer opposto che finisce su questo u42 un'altra pista che finisce dalla parte opposta e quindi finisce sul cpu sulla kickstar eccetera eccetera bene quando io ho un'introduzione della corona del pad o comunque del via stesso può succedere che mi trovo ad esempio un collegamento fisico regolare sulla mia che ne so sinistra quindi vado a fare il continuità tra questo punto e questo punto e me la trovo ma non ho la continuità tra questo punto e questo punto e da qua conseguentemente siccome poi la pista come si vede continuerà verranno interrotte tutti i collegamenti che andranno da quella direzione per cui o mi metto e controllo dallo schematico ogni singolo punto da punto a b punto b punto c punto d eccetera eccetera semplicemente come in questo caso può essere utile per risparmiare tempo verifico il collegamento del pad da lato destro dal lato sinistro è chiaro che se per esempio io ho il collegamento dal pad fino al piedino 3 del nostro micro controllore e so di non avere problemi di acido e che tutto è stato concentrato in questa zona del connettore è inutile controllare per esempio anche il collegamento che mi arriva fino alla rom kickstart perché è un collegamento unico che non può essere stato interrotto dal problema causato sulla porta di espansione così come anche tutti gli altri segnali che finiscono nel resto della scheda quindi non è strettamente necessario in questi casi quando so da dove potrebbe essere nascere l'interruzione andare verificare tutto il segnale ma devo assolutamente verificare il segnale a destra e a sinistra beh detto questo faccio i miei test e ci vediamo non appena avrò finito di controllare il nostro connettore ID ok allora dopo aver fatto il controllo di tutto il pettine mi sono accorto che effettivamente oltre ad avere 6 o 7 pad che sono veramente in bilico tra funzionano mi sto rompendo abbiamo proprio due segnali completamente interrotti si tratta di a2 e di d4 a2 la presente il secondo il terzo bit della linea indirizzi mentre d4 chiaramente il quinto bit della linea dati si trovano rispettivamente vediamo 12345 noi abbiamo il questo pin che sarebbe la 2 a2 che dovrebbe andare dallo schematico sul cpu in questo pin e come vediamo non ci va e sul praticamente u2 che è anche qui praticamente dove ci si interrompe abbiamo il collegamento che arriva fino a questo punto questo punto sale e dovrebbe fermarsi qui non abbiamo praticamente a2 vediamo d4 d4 è una cosa interessante perché combinazione proprio fa parte di quella categoria di problemi che vi ho raccomandato prima sul controllo del lato destro e lato sinistro il d4 è il sesto piedino da sinistra partendo dal basso quindi 1 2 3 4 5 6 e questo d4 1 2 3 4 5 e 6 vediamo che ce lo dobbiamo trovare in questo piedino 1 2 3 4 5 quindi 1 2 3 4 5 non c'è non c'è assolutamente segnale mentre sul pin 1 del processore c'è quindi c'è chiaramente qua c'è su questo piedino della che rom kickstart eccetera eccetera abbiamo il d4 che va in una direzione ma non va nell'altra direzione perché questo andiamo a vedere dalla parte opposta il piedino 6 di sopra quindi avevamo 1 2 3 4 5 6 abbiamo da questo lato che va regolarmente e questo lato metà della corona va sul piedino che noi ci aspettiamo che deve andare l'altra metà della corona assolutamente no vediamola col microscopio e vediamo perché questa situazione ecco si tratta praticamente di questo pad questo via che come vi avevo anticipato ha problemi questa parte qua è interrotta e questa parte qua in effetti potrebbe ancora continuare ad andare ok andiamo intanto a ripristinare la pista del segnala 2 perché si trova dal top layer e quando andremo a montare il connettore chiaramente non possiamo andare a vedere l quinto piedino il quinto pad a destra della fila quindi uno due tre quattro e cinque quindi si tratta di questo pad spegliamolo quanto basta e infatti qua ora si vede che è completamente senza la corona la corona era a malapena appoggiata io chiaramente per mantenere anche la camera ferma faccio più fatica del normale però siamo riusciti comunque a spellare abbastanza bene il nostro filo beh niente di nuovo andremo a fare il suo intervento con il suo con il filo pre stagniamo Prestegniamo anche il filo. Dopodiché dobbiamo andare ad inserire il filo, 2, 4, 5, facciamo la bella sartina. Ricordiamoci in queste operazioni di non tappare il buco perché dovrà passare chiaramente anche il pin del nostro connettore. Grazie. Allora come si vede in questo caso non ci sono piste a cui collegarlo, dobbiamo praticamente arrotolarlo sul pin, per cui lo lasciamo veramente lungo e poi lo arrotoleremo intorno al pin tagliando eventualmente l'eccesso, va bene così. Questo è andato. Il segnale D4 abbiamo invece sul piedino 6 partendo da sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi avevamo visto che era praticamente interrotto da qua. Quindi non è qualcosa di cui dobbiamo per il momento preoccuparci. saldo il connettore e ci vediamo subito dopo per il ripristino delle pad. Bene il connettore è appena finito di installare, controllate anche le piste, le via e i pad tutti intorno. Sembrerebbe essere tutto ok. Passiamo ora alla fase numero 2, cioè la sostituzione dei due condensatori che il nostro amico X, chiamiamolo così, non ci ha praticamente installati. Non li ha installati perché probabilmente sono gli unici due. Sono difficoltosi in quanto troppo vicini sia al connettore dell'RCA dell'audio e sia soprattutto al connettore della tastiera che è molto delicato. L'operazione che vado a fare è intanto togliere la plastichina del connettore. Quindi dividiamo il connettore. In questo modo questo ci consente di allontanare un pochino la distanza, avere più spazio e non danneggiare la parte, diciamo, esposta liscia. A questo punto andrebbe isolato con del nastro Kapton, ma io ho acquistato del nastro Kapton, finono acquistati diversi e devo dire di aver preso una fregatura, perché del nastro Kapton hanno a malapena un po' il colore, niente di più. Non è un nastro Kapton o comunque un nastro Kapton veramente di scarsissime qualità, perché non resiste oltre 250 gradi. Quindi andiamo a fare qualcosa di praticamente ibrido. Vado a mettere un pezzettino di carta che solitamente, diciamo, brucia oltre i 400 gradi e per isolarlo termicamente vado a mettere questa specie di nastro Kapton. Dissaldo i due condensatori, li sostituisco con i due condensatori nuovi e ci vediamo subito dopo. Condensatori eliminati e andiamo a saldare i nuovi. Condensatori appena sostituita, rimessa di nuovo praticamente la plastichina, comunque il fermo per il flat della tastiera. Possiamo andare a popolare la nostra Amiga 600 e verificare se la nostra interfaccia IDE è ancora perfettamente funzionante e se tutto il resto della macchina è perfettamente funzionante. Connetto tutto e faccio il solito setup, ci vediamo come al solito subito dopo. Setup completo, andiamo ad installare la CF card sua originale, quindi semplicemente la installiamo così. Lasciamo la messa da parte, accendiamo il monitor e accendiamo anche la nostra Amiga. Come si vede nessuna dominante viola, come era stata descritta inizialmente dal suo proprietario, mi diceva dominanza viola, interfaccia IDE morta. Non abbiamo connesso la tastiera, l'accesso al disco sta avvenendo perché si vede il led accendersi, mentre prima non dava assolutamente nessun segno di vita. Potremmo aspettarci da un momento all'altro, è perfetto, bingo! Nonostante sia un bingo sottotono per via dei miei 54 gradi in istanza. Però sembra che stia caricando correttamente dall'hard disk. Quindi interfaccia IDE ripristinata. Perfetto. Abbiamo tre partizioni, System HD HD2, con XCopy, XSinfo eccetera eccetera. Facciamo un XSinfo, non voglio andare a spulciare nei file, non so se ci sono file personali, per cui scegliamo solo un XSinfo per vedere un po' le caratteristiche della macchina. Ok, un ECS Agnus da 2mb, attualmente c'è installato, facciamo memory, un solo megabyte di chip. Benissimo, l'hard disk sembra andare finalmente perfettamente. L'immagine è perfetta, allora facciamo un test complessivo finale con la tastiera, l'audio e la sua espansione di memoria che abbiamo tolto inizialmente quando è stata aperta la miga. Rifaccio il nuovo setup, ormai so di non dover mettere teoricamente più mani alla piastra e ci vediamo, come al solito, subito dopo. Inquadratura altrettanto insolita come quella iniziale perché ho connesso l'Amiga 600 al monitor solito degli Amiga ma anche al TV Miver. Questo perché? Perché stiamo sfruttando sia l'uscita composita di cui si lamentava di una forte dominante viola e sia al monitor principale con il quale poi faremo tutti gli altri test una volta avviata la macchina. Quindi proviamo ad accendere la nostra Amiga 600 e vediamo che il segnale è su entrambi i monitor. Questo lo vedete sicuramente molto più luminoso, molto più accesso rispetto al NEC. Però quello che ci interessa ora è che se la macchina parte sembra partire regolarmente perché dentro è stata anche installata l'espansione di memoria. Quindi viene riconosciuta l'espansione di memoria quantomeno non blocca la macchina. Vedremo ora che si avvia il sistema con un bel Sysinfo che cosa troviamo. Ok. Abbiamo l'immagine come si vede su entrambi i monitor e si vedono che sono entrambi senza dominanti. Chiaramente ripeto questo decisamente più luminoso questo meno ma sta funzionando correttamente sia l'uscita composita che l'uscita RGB. A questo punto lascerei questa inquadratura e ci concentreremo su un solo monitor e vediamo un attimino di proseguire con i test. Benissimo andiamo a vedere stavolta con Sysinfo ma si vede già che è un mega set di memoria libera quindi avrà riconosciuto sicuramente il megabyte di chip RAM aggiuntiva. Proviamo a fare memory e come si vede total size 2 megabyte. Perfetto. Quindi la macchina funziona funziona correttamente o quantomeno il video funziona. Finalmente l'interfaccia IDE quindi l'hard disk funziona anche se tratta di un CF card. Proviamo a questo punto a vedere se funziona anche il drive e se funziona anche il suono caricando un bel giochino. Vediamo che succede con il giochino fino a qua ok. L'audio non so se sarà perfetto perché le casse forse hanno un canale che va e non va. È una cosa che sistemerò non appena avrò modo di rivedere completamente qui lo studio. Infatti forse si sente solo un canale l'altro si sente veramente molto basso. Però c'è. Ok file. E sembra caricare correttamente anche il nostro drive. L'audio è presente direi che questa miga probabilmente adesso è completamente funzionante. Sono altri pochi secondi di attesa e in effetti è proprio così. bene amici e con questo video immagino breve rispetto al mio classico video da 45 minuti, un'ora, un'ora e qualcosa. È veramente tutto. Abbiamo ripristinato anche questo chiamiamolo anonimo Amiga 600. Siamo contenti di non aver fatto perdere l'interfaccia ID a questa splendida macchina. Sono contento per la macchina come sempre e anche come al solito per il suo proprietario. Quindi un saluto anche al suo proprietario. E niente con questo video è veramente tutto. Approfitto però di questo momento per ricordarvi che probabilmente saranno richieste altre due macchine prima dell'inizio delle ferie. Dopodiché ci sarà questa pausa che non so se sarà completamente una vera e propria pausa. Ci sarà una o due live al più al posto del classico video riparazione. Anche perché, l'ho detto già nel video scorso, oggi ancora di più la camera mi sia dovuta bloccare completamente per la sovratemperatura, nonostante avessi qui il climatizzatore perennemente accesso. E come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like qua sotto. Se ancora siete iscritti al canale, potete iscrivervi. Questo mi fa sempre molto piacere e mi incentiva sempre a fare molto di più e molto meglio. Se poi volete anche far parte del gruppo Telegram, vi aspetto dall'altra parte per una connessione un pochino più diretta. Ciao, al prossimo video.